Dire una parola conclusiva alla fine di questa mattinata. Non so che impressione voi avete avuto, io ho l'impressione di una grande ricchezza, di una grande ricchezza, l'intervento dell'Arcivescovo in particolare, ma tutto insieme. Quindi la prima cosa che vorrei dire è che sono stato contento di essere qui questa mattina. Gli ha fatto molto bene per quello che ho sentito e anche per quello che abbiamo condiviso. Più precisamente vorrevo ringraziare le persone che sono intervenute per quello che hanno detto. Io mi sono segnato qualche appunto, quindi ringrazio il Don Simone in particolare per questo concetto della casa. L'ha ripreso anche l'Arcivescovo, io l'ho sentito come particolarmente mio. Ringrazio Anna, se non sbaglio, per il particolare anche qui ripreso dell'essenziale. Anche io sono convinto che non dobbiamo perdere l'essenziale, fare in modo che nei nostri oratori anzitutto le persone si sentano amate. L'Arcivescovo aggiungeva definitivamente, interessante. Ringrazio Andrea, se non sbaglio, perché parlava di amicizia e di servizio. Poi l'Arcivescovo diceva servizio nel senso dell'esperienza dell'amore. Ecco, noi, ma io credo che sia così. Quando ci mettiamo a servizio, soprattutto dei più piccoli, noi sentiamo che impariamo ad amare. C'è una dimensione del gratuito poi che si intreccia con questa disponibilità a mettersi a fianco di chi è più piccolo di noi. Però mi piace anche questo aspetto dell'amicizia. Dicevi, a un certo punto non ho avuto più amici e poi me li sono ritrovati. Io sono convinto che l'oratorio sia anche un luogo in cui si vive l'amicizia. Poi condivido la domanda di chi, qui non mi sono segnato il nome, chiedo scusa, di Silvia, questo dell'equilibrio tra la vita familiare, l'impegno che i figli decidono di assumere a favore degli altri e le dinamiche. Questo paressaggio credo che segnalarlo, intendo. Dovremmo sempre approfondirlo. Poi ringrazio nell'ultimo intervento lo Stefano per diverse cose, ma innanzitutto per la passione. Io intravedo qui una grande passione e anche proprio il desiderio che questa realtà trovi poi oggi la sua giusta forma. E qui mi aggancerei per dire che io ho avuto l'impressione che oggi abbiamo ricevuto qualcosa di molto prezioso sul versante della chiarificazione, lo dico perché io in questo momento sento forte questa domanda, del rapporto tra oratorio e comunità educante. Del resto è uno... Io penso che oggi ho visto, ho percepito l'intervento dell'Arciverso come uno degli interventi nei quali in maniera più lucida ci ha detto che cos'è per lui la comunità educante. Questa è una domanda che noi ci portiamo dietro ormai da diverse settimane, ma alla fine come dobbiamo intenderla? Credo qui ci sono anche diversi preti, tutti voi che avete responsabilità sull'oratorio, nei confronti dell'oratorio della pastorale giovanile, come dobbiamo intendere questo soggetto in rapporto con ciò che già esiste? E mi pare che abbiamo ricevuto alcune indicazioni che meritano di essere approfondite. Quattro io ne segnalo. La prima, questa sottolineatura dell'essenziale. La comunità educante esiste per far percepire alle persone l'amore definitivo di Dio. Questo mi sembra molto importante, nella sua duplice modalità del gratuito e dell'integrale. Lo approfondiremo. Secondo, la comunità educante cerca di rispondere all'esigenza di quel fattore unificante di cui c'è molto bisogno, soprattutto nella situazione attuale frammentata. Perché, tra l'altro, oggi non c'è più la realtà di paese. La dimensione sociale in questo non ti aiuta più. Giustamente, si diceva, noi prima potevamo far leva su questo. I nostri paesi erano una realtà già unificata, in un certo senso, dall'esperienza anche religiosa. Adesso non è così scontata la cosa. E poi, quando vai in altri contesti, è ancora più difficile. Quindi, è dall'interno che noi dobbiamo offrire, dall'interno dell'esperienza ecclesiale, che dobbiamo offrire quel fattore unificante, però, da quel che ho capito, che non è di chiusura. Questo è interessante, bisognerà approfondirlo. Qualcosa che ci cementa, no, non va bene l'esperienza del cemento, perché quello ti solidifica e ti chiude, ti lega, ti lega, però non ti chiude. In questo senso, ed è il terzo dato, su cui penso dobbiamo riflettere, il concetto di appartenenza, inteso in rapporto al concetto, che è biblico alla fine, di elezione e di preferenza. Gesù aveva una preferenza per i dodici, per i suoi discepoli, rispetto alle folle? Beh, sì e no, dobbiamo intenderci sul termine preferenza. Ma no, non va bene, Gesù non faceva preferenze. No, dobbiamo intendere che cosa significa. È chiaro che aveva una cura particolare per i discepoli, ma non solo, viveva un rapporto particolare con loro. Ma questo non significa che non amava le folle, anche perché quel che viveva con i discepoli era totalmente in funzione delle folle, però con le folle non parlava alla stessa maniera. Forse questo è un punto che dovremmo approfondire. I nostri contesti, per esempio i nostri oratori, dove operano le comunità educanti, mi par di capire che se ne immagina più di una nei vari ambienti, sono luoghi in cui si vive una appartenenza che è il modo attraverso cui, in maniera più intensa, si fa esperienza della vita nella fede, della vita cristiana, ma non per chiudersi. Perché di sua natura una vita così, dei legami forti che nascono della fede, poi ci rendono tutti molto più sensibili a tutti gli altri. Però intanto viviamo intensamente insieme. Siamo contenti di celebrare l'Eucaristia, siamo contenti di ascoltare la parola di Dio, siamo contenti di sentirci persone che insieme si interrogano sul senso della vita, che approfondiscono alcuni aspetti mediante la catechesi, eccetera. Tutto questo poi ci porta, quando andiamo in altri contesti, l'università, piuttosto che il mondo del lavoro, da un lato a non sentirci isolati, perché abbiamo dei legami con persone che amiamo, da cui siamo amati, con cui siamo amici, dall'altro ci apre tutto questo al desiderio di conoscere altre persone, di dare il nostro contributo lì dove siamo. Perché quello non è il momento da chiudere presto, perché poi torniamo nel nostro gruppo, torniamo nel nostro oratorio, torniamo... No, non credo che sia così. Ecco, per quello che io ho intuito, questi sono aspetti che vanno approfonditi e mi pare bello lanciare da qui un messaggio, lo diceva già Don Samuele, questo potrà essere uno dei temi che nei prossimi mesi cerchiamo di approfondire. Dialoghiamo su questo, penso anche a... io ho in mente in modo particolare, se mi permettete, i preti giovani, no? L'Arcivesco accennava il fatto che i nostri preti giovani sono chiamati ad assumere la responsabilità di diversi oratori insieme con altre figure. Cosa vuol dire oggi seguire come prete cinque oratori in collaborazione con altri responsabili? Ecco, la comunità educante credo che vada anche in questa linea, per quanto intuisco. diventa un soggetto significativo anche per i presbiteri, perché saranno aiutati a esercitare meglio il loro ministero da soggetti come questi. Immagino che la comunità educante diventerà significativa anche per i soggetti laici che hanno responsabilità, i direttori di oratori, i responsabili dei centri giovanili. Qualcosa si sta aprendo, cioè sono prospettive nuove. In continuità con quel che abbiamo fatto finora abbiamo una tradizione straordinaria che è quella appunto degli oratori e della stessa FOM, qualcosa forse comincia ad aprirsi di nuovo. E credo siamo sollecitati a cogliere quella che è la la sollecit... appunto l'indicazione che ci viene perché in questa maniera forse lo spirito sta aprendo qualche nuova strada. Grazie. Applausi